Salve cari followers. È sull'isola di Sicilia, precisamente a 23 chilometri da Catania, e questo è intorno alle 6 e mezza del mattino ora locale, e secondo il Centro Europeo per i Terremoti, l'intensità del tremore ha raggiunto circa 2,5 gradi sulla scala Richter, che è un leggero terremoto, a volte potrebbe non essere avvertito, ma è monitorato da sismografi avanzati, e questo terremoto non ha causato danni e nessuna altra importante novità di cui vi informeremo in seguito, alla fine siete in buona salute. Grazie. Grazie Grazie